A te che stai vendendo casa, molto probabilmente interessa sapere come mai abbiamo tanti clienti acquirenti interessati a comprare casa con noi. Beh, devi sapere che nel tempo, negli anni, noi gli acquirenti li abbiamo educati. In che modo? Abbiamo realizzato una guida, e siamo gli unici ad averlo fatto, abbiamo realizzato una guida che spiega all'acquirente tutti i passaggi che deve seguire per acquistare una casa in totale sicurezza e serenità. Siamo gli unici ad averla fatta e l'abbiamo sempre consegnata a ogni appuntamento di vendita ai clienti e molta gente è anche passata in agenzia a ritirarla una coppia a omaggio. Bene, devi sapere che un'altra cosa in più che facciamo agli appuntamenti di vendita è quello di portare con noi una cartellina. Questa cartellina che all'interno contiene sempre la scheda dell'immobile, che è questa. E noi a ogni appuntamento di vendita che facciamo agli appartamenti consegniamo sempre la scheda dettagliata dell'immobile che il cliente ha visto con le foto, con tante foto, con le planimetrie, con le trasformazioni nel caso la casa è da ristrutturare. E perché facciamo questo? Costa? Sì, lo sappiamo. Una cartellina, una scheda, una brochure che spiega come comprare casa hanno un costo. Va bene, però ricordati che le persone magari vedono la casa, poi tornano alla loro abitazione e non ricordano perfettamente tutti i dettagli. Lasciando una scheda con tutte le spiegazioni, con le rifiniture, le caratteristiche, con la planimetria, con le foto, può aiutare chi ha visto la casa a poterla descrivere anche a chi non è venuto a vederla. E magari piuttosto che avere dei dubbi su come è fatta o sul fatto che in una stanza possano entrare o meno i mobili che hanno, bene, consegnando la scheda noi facilitiamo il processo e i tempi di velocità di acquisto. È naturale che i nostri acquirenti siano preparati, è naturale che i nostri tempi di vendita siano più veloci rispetto a tanti altri, perché effettivamente i nostri acquirenti sanno già qual è la procedura da seguire per iniziare e portare a termine un acquisto in totale sicurezza e serenità. Noi ci siamo, abbiamo tanti strumenti per aiutarti a trovare e intercettare l'acquirente giusto in target per il tuo appartamento. Perciò usa, usa il nostro esclusivo programma Comprami e vedrai, noterai e toccherai con mano che il risultato arriverà. Ciao!